Buongiorno a tutti Allora nello scorso episodio abbiamo lavorato un paio di cose diciamo varie che non c'entrano molto, abbiamo portato avanti un po' di cose, abbiamo craftato certe cose e poi ci siamo messi a lavorare alla nostra piccola purificazione di zombie, abbiamo creato lo scheletro di quello che sarà appunto la nostra purificazione stessa, abbiamo creato il sorter, abbiamo creato il sistema per portarli fino al punto desiderato Ed ora quello che manca è semplicemente di finire e creare tutta la stanza che stavamo creando per far spawnare i nostri zombie e di completare il tutto con le celle di contenimento per gli zombie che comunque andremo a fare molto molto presto Poi abbiamo completato l'episodio lavorando a un paio di enchantment su le nostre parti che abbiamo qua e su una picca giusto per portarci un po' avanti e per avere diciamo un'intera armatura senza appunto rischiare di morire senza rischiare di prendere danni extra E è praticamente tutto quello che abbiamo fatto nello scorso episodio, abbiamo anche parlato di un paio di cose e abbiamo detto un paio di cose però poi non abbiamo più fatto nulla perché non c'era più tempo Comunque, allora, prima di iniziare l'episodio voglio dirvi un po' di cose, prima cosa voglio leggervi il commento del giorno che oggi è di MickZ17Z che ci dà due idee, più che altro la prima non mi interessa molto perché l'ho letta ma non mi piace così tanto perché è estremamente difficile da fare Però la seconda mi piace perché è, diciamo, riguarda la 1.7 che come sapete uscirà fra poco Oggi è uscito lo snapshot e lo andremo a vedere quindi se vi interessa la cosa rimanete pure sul video perché lo andremo a vedere come prima cosa oggi E appunto l'idea che ci dà lui è quella di andare a prendere e creare appunto un sistema con i cosiddetti command blocks Che sono quei blocchi che possono appunto utilizzare dei comandi della console che ci permettono appunto di spostarci nel nostro mondo Praticamente quello che ci dice di fare lui è di utilizzare questi nostri command block per andare così lontano magari per riuscire a esplorare le parti nuove Per avere le cose nuove della 1.7 Su questa cosa in molti mi hanno chiesto se farò un nuovo mondo, se farò qualcosa del genere Se posso esplorare semplicemente camminando e comunque trovare le cose non creerò un altro mondo Quindi giusto per chiarire un po' le vostre idee su questa nostra cosa Comunque, allora, prima di cominciare l'episodio voglio dirvi un po' di cose La prima cosa è che in molti mi avete chiesto se farò mai una serie con Surreal Power Allora, ci ho parlato con lui, lui ha detto che non fa nulla con altri se non per la sua serie con Rant Quindi sfortunatamente no, se volete potete provarlo a convincere ma non penso che cambi idea Magari forse nel futuro ci sarà qualcosa ma non si sa mai Quindi state tranquilli che forse nel futuro ma non lo posso sapere io, non lo può sapere lui, non lo potete sapere nemmeno voi Comunque, allora, prima di cominciare l'episodio l'ultima cosa di cui vi voglio parlare È di quello che andremo a fare oggi Allora, la prima cosa che andremo a fare sarà vedere le novità dello snapshot Perché sapete che mi piace inserirle nel let's play perché alla fine il let's play è tutto quello che riguarda Minecraft E appunto una volta fatto quello voglio anche prima di cominciare lasciarvi una domanda Che anzi ve la faccio ora Che è qual è la cosa preferita che vi mostrerò oggi nello snapshot Quindi dovete per forza guardarlo se no non potete rispondermi E appunto se c'è una cosa che preferite ditemelo pure perché sono veramente interessato E sono più che altro interessato perché mi piace sapere quali sono i cambiamenti che a voi piacciono di più Quali sono le aggiunzioni che a voi piacciono di più Quindi se avete una cosa preferita che vi andrò a far vedere oggi ditemelo pure Che mi interessa molto e magari faccio anche un piccolo sondaggio con un grafico eccetera eccetera Comunque allora visto che voglio andare a lavorare lo snapshot passiamo subito a un'altra versione di Minecraft E magari anche ad un altro mondo perché questo non lo vorrei rovinare Ok allora ci troviamo sullo snapshot 13w36a E la prima cosa che voglio fare vedere è un piccolo cambiamento nelle opzioni Allora ora abbiamo il fov abbiamo la difficoltà Poi abbiamo musica e suoni super secret settings che non è cliccabile e sarà una cosa per il futuro E poi abbiamo le solite cose quindi controlli, multiplayer, snooper, resource pack, linguaggio, video setting Però qua c'è music and sound che è nuovo In music and sound possiamo modificare i livelli del suono del gioco Possiamo modificare il livello del suono master cioè di tutte le cose Poi possiamo modificare quello della musica, quello del tempo quindi della pioggia e cose varie Quello dei nemici, quello dei giocatori, quello della musica dai jukebox e i noteblock Quello delle caverne per esempio quindi quando c'è il rumore delle caverne o cose del genere E quello degli animali quindi potete vedere che abbiamo un po' più di modifiche che possiamo fare al nostro audio Tramite le opzioni In più un'altra cosa che è stata aggiunta è quando noi andiamo a creare un mondo Ora c'è oltre a super flat e large biomes c'è amplified che sarebbe amplificato Amplified potete vedere che ci dice notice just for fun Significa che è solo per divertimento e richiede un computer piuttosto buono Perché? Perché amplified cioè amplificato è un diciamo uno spawning del mondo un po' esagerato In proprie parole crea delle montagne e cose varie Praticamente giganti ed era quella foto che vi ho fatto vedere qualche episodio fa Che appunto era stata trittata da Jab Quindi potete vedere che c'è nel gioco E è piuttosto carina però richiede un computer piuttosto buono per essere diciamo generata Poi una volta generata potete vedere che gli fps sono piuttosto buoni perché io ne ho quasi 300 Però appunto per essere generata richiede un po' di tempo e non mi muovo da quest'area Perché se mi muovo inizieremo a appunto generare Allora passiamo direttamente alle nuove cose che sono state aggiunte in questo snapshot Allora prima cosa il tasto ctrl o control ora si può utilizzare per sprintare Quindi io posso camminare premere ctrl o control e posso partire in sprint Poi un'altra cosa che è stata aggiunta che è piuttosto carina È che quando noi cadiamo su un blocco ora dipende dall'altezza dalla quale cadiamo Abbiamo una specie di effetto splash sul blocco Cosa molto molto carina Funziona con tutti i blocchi o almeno con tutti quelli che ho provato E sembra appunto utilizzare la texture sotto Potete vedere che è piuttosto carina come cosa Perché adesso abbiamo una specie di animazione di quando ci facciamo male per caduta Ed è piuttosto bella questa cosa mi piace un sacco Comunque nel... in questo nostro snapshot e in questo nostro nuovo update Che sarebbe la 1.7 È il cosiddetto o così chiamato update dei biomi Perché è chiamato update dei biomi? È chiamato così perché sono stati aggiunti un sacco di nuovi biomi Sono stati aggiunti un sacco di modifiche ad essi E ora i biomi hanno una piccola particolarità che è quella di poter essere un bioma Per esempio prendiamo la nostra... i nostri plains Che sarebbe la pianura Ed avere un modificatore come per esempio la pianura con tanti fiori La pianura in nevata Oppure se per esempio prendiamo il deserto Possiamo avere il deserto con le montagne Quindi potete vedere che qua ne abbiamo un esempio Ecco qua potete vedere che se io premo F3 ci dice desert hills Cioè montagne desertiche E appunto ci sono un sacco di nuove cose Per esempio ora i punti più alti del nostro mondo Ricevono un po' di neve Non importa quale biome sia Però c'è della neve sui punti più alti Quindi potete vedere che qua siamo in un extreme hills E ci troviamo della neve anche se non ci dovrebbe essere Poi cos'altro c'è? Cos'altro è stato aggiunto fra i nuovi biomi? Sono stati aggiunti veramente tanti biomi Per esempio qua abbiamo una cosiddetta roofed forest Che sarebbe una foresta molto molto fitta E appunto è piuttosto carina Ci sono questi funghi un po' messi a caso E è piuttosto bella da vedere Non vi farò vedere tutti i biomi che sono stati aggiunti Perché sono veramente veramente tanti Qua vi do un piccolo snapshot Una piccola idea di com'è la savanna E appunto quello che voglio farvi vedere ora Sono i blocchi e le cose che sono state aggiunte Tramite queste nostre nuove cose Allora prima cosa Sono stati aggiunti un sacco di nuovi fiori C'è quello classico il giallo Poi abbiamo il poppy Che sarebbe la nuova rosa Poi abbiamo la blue orchid Abbiamo poi qua una viola Che si chiama allium Azur bluet Poi abbiamo red tulip I orange tulip Quindi tulipani di ogni colore White Pink E ognuno di questi nostri nuovi fiori Ha una cosa speciale Cioè che ogni fiore Ha un proprio colore Quindi se io utilizzo il bianco Il fiore bianco Ci darà il bianco Se io utilizzo quell'arancione Ci darà l'arancione Quindi è giusto un piccolo Una piccola cosa che Ci permette di prendere il colore Un po' più facilmente Senza dover appunto utilizzare Tutti i tipi di mischiature Che possiamo fare con i colori Poi abbiamo delle nuove piante Abbiamo il cosiddetto E a proposito Queste piante qua Queste 1, 2 e 3 Anzi e 4 Anche il girasole Se noi le chichiamo con del bomiel Ci danno la pianta stessa Abbiamo la peoni Che dovrebbe essere la peonia Abbiamo il Il rose bush Che dovrebbe essere Il Come si dice in italiano Oh mio dio C'ho un lapsus enorme Dovrebbe essere tipo Il Un gruppo di rose In poche parole Non mi viene la parola Poi qua abbiamo Il cosiddetto Vediamo Il lilac Che dovrebbe essere Il lila Detto in italiano Ed infine Il girasole E potete vedere Che ogni volta Che ne clicchiamo uno Con il bomiel Ci da uno extra Qua al centro Invece abbiamo I cosiddetti Large fern E i double tall grass Questi qua Sono praticamente Due versioni nuove Dei normali Fern E tall grass Quindi se io utilizzo Del bomiel Su questo E su questo Si trasformano in quei due In più un'altra cosa È stata aggiornata La texture Delle nostre sugarcanes Che ora sono un po' più verdi Un po' più flosforescenti Se devo dirlo Poi Cos'altro è stato aggiunto Sono stati aggiunti Questo nuovo tipo di terra Che si chiama Podzol Che non so quale sia La traduzione in italiano È stato aggiunto Il cosiddetto Packed Ice Che fa parte di Una nuova cosa Che è appunto Queste montagne enormi Fatte di ghiaccio E una cosa speciale di questo È che Come prima cosa Non può essere sciolto Come il ghiaccio normale E come seconda cosa Non È trasparente O almeno Non si vede attraverso di esso Quando invece Attraverso il ghiaccio normale Si può vedere Quindi è una cosa Un po' differente Però è piuttosto carino Penso che nel futuro Andranno a inserirci anche Un crafting per esso Però non lo posso sapere Per ora Perché è solo uno snapshot Poi Sono stati aggiunti Due nuovi pesci In realtà Sono stati aggiunti tre Io ne ho quattro Perché Uno di questi È il cosiddetto Salmone Che possiamo cucinare Ed è l'unico Dei tre Che possiamo cucinare Quindi abbiamo Il salmone Il clownfish Che sarebbe Il pesce pagliaccio Cioè nemo E poi abbiamo Il pufferfish Che sarebbe Il pesce palla E ovviamente Il salmone Avete appena visto Si può cucinare Poi cosa abbiamo Abbiamo un paio Di nuovi enchantment Abbiamo Lack of the sea E lure Che sono per la pesca Quindi io le posso mettere Su questa nostra Canna da pesca E ora Quando peschiamo Abbiamo un po' Di effetti diversi Ci sono un sacco Di cose diverse Molto molto piccole Che potete forse notare Non si vedono bene Perché è un effetto Molto molto piccolo Però c'è tipo dell'acqua Che saltella su e giù E poi Quando un pesce Diciamo Abbocca Si vede appunto La striscia del pesce Che passa nell'acqua Ora non si è vista Perché ho perso il pesce Ma non importa Però è Diciamo Una cosa Molto molto piccola Però molto carina Appunto Che è stata aggiunta Poi cosa è stato aggiunto Sono stati aggiunti un sacco Di cambiamenti ai biomi E appunto A come spawnano i biomi Potete vedere che ora Tipo spawna La nostra gravel Poi spawnano Delle altre cose Che sono piuttosto interessanti Però Diciamo Overall È È un update Piuttosto carino E c'è una cosa Piuttosto carina Un'altra cosa Che voglio farvi notare È che Nell'oceano Adesso il fondo È costituito Per la maggior parte Da gravel E potete vedere Che è praticamente Tutto gravel Quindi Sembra che La gravel Ora sia Attrattata Diciamo In qualche modo Dall'acqua O diciamo Sia la roccia Deteriorata Dall'acqua E crea Appunto La gravel Comunque Questa è praticamente La maggior parte Delle cose Che sono state aggiunte Nello snapshot Ovviamente Non è tutto Perché non voglio Spendere 30 minuti A far vedere tutto Però Se volete provare A scoprire Gli altri biomi Potete pure farlo Magari Andando a cercare Online E vedendo Gli altri piccoli Update Un'ultima cosa Che voglio fare vedere Che ora I command block Salvano il comando Che abbiamo appena fatto O che è stato fatto Prima di questo Quindi è una cosa Un po' carina Comunque Ora passeremo Di nuovo Al nostro mondo Per continuare A lavorare I nostri progetti Ok Allora Sto lavorando Al nostro sistema Di purificazione Sono venuto a casa Giusto per Buttare via Un po' di cobblestone E recuperare Un altro po' di cose Che avevo messo a preparare E anche per craftare Un po' di queste nostre Come si chiamano Redstone lamp Perché ce ne serviranno Altre 22 Sì è un sacco Di redstone Ma sinceramente Non mi importa E perché devo fare questa cosa Perché ci serviranno Queste nostre redstone lamp Per illuminare Il nostro sistema Quindi queste qua Vediamo Mi servirà Giusto un'ultima E dovrebbero essere abbastanza Però mi porterò Comunque la redstone Con me Perché ci serviranno Per illuminare Il nostro Per appunto Accendere le nostre Le nostre stesse Redstone lamp E un'altra cosa Che ho fatto È completare Lo scavo Della nostra Stanza Sottoterra In più mi sono anche Craftato le scale In modo che ora Possiamo scendere Salire Senza dover Avere il rischio Di soffocare Nell'acqua E un'altra cosa Che ho notato È che la stanza Non è perfetta Diciamo non è la stessa Grandezza dello spawner O della stanza Dello spawner Perché Come prima cosa C'è una parte Dove non possiamo scavare Perché c'è il nostro ascensore Quindi quella parte È diciamo riempita In più Diciamo i lati Non sono perfetti Perché la parte sopra L'ho diciamo Creata in modo diverso Quindi quella qui sotto Potete vedere che È un pellino diversa E non è totalmente uguale A quella che Avremmo dovuto fare Però non importa Perché alla fine Ci basta una stanza Qualsiasi Dove noi possiamo stare Poi ora Voglio scavare qua Per iniziare A rompere tutto il muro qui Non so se ci conviene Fare il primo livello O il secondo Forse il secondo è meglio E voglio scavare Tutto intorno Per poter fare Questa piccola cosa Di mettere Tutte le redstone lamp Intorno Ed essendo Ogni lato Di 8 blocchi I miei calcoli Dovrebbero essere giusti Ci serviranno 32 Redstone lamp Perché 8 16 24 E 32 Quindi Ora voglio andare A mettere Tutte queste nostre Redstone lamp Qua dovrò fare Una cosa un po' speciale Per saltare A questo punto Perché c'è il nostro ascensore Ma non importa Dovrò trovare Un metodo Per collegarmi Magari lo faccio Da quest'altra parte Giusto per Salvarmi appunto Il lavoro extra Di lavorare Con la redstone E Un'altra cosa Che voglio fare È provare a testare Questa cosa Voglio prima Come prima cosa Provare a testare Se i nostri zombie Arrivano verso l'alto Quindi fatemi finire La parte in redstone E poi vi faccio vedere Il tutto funzionante Ok allora C'è voluto un bel po' di tempo E un bel po' di redstone Perché ce ne sono serviti 10 blocchi Più Un altro bel po' Per fare questa cosa Sono anche dovuto andare A recuperare Un po' di repeater Ne ho craftati 4 Ma alla fine Ne ho utilizzati solo 2 Però ora Potete vedere Che funziona Il nostro sistema Quindi quando è giù La nostra leva I nostri zombie Possono spawnare Un piccolo problema Che abbiamo È che qua Entra la luce Ma poi là sopra Andremo a farci una mini casetta Quindi non ci interessa molto Però potete vedere Che io posso Tirare la leva Per accendere e spegnere la luce Senza problemi Poi qua Ho già messo le nostre scale E sopra Ho anche Già provato a fare un piccolo test Con gli zombie E sembrano Sembrano passare piuttosto bene Quindi Non dovrebbe essere un problema E appunto Qui sopra Come vi ho appena detto Andremo a fare una piccola casetta Che appunto Come prima cosa Ci bloccherà la luce Dall'entrare dentro E come seconda cosa Ci servirà anche Come entrata Piuttosto carina Non so se Se fare l'entrata di qua No forse di qua è meglio Perché così Entriamo già Che facciamo la nostra scala E allora Visto che Questo episodio Abbiamo già sprecato Molto tempo E abbiamo già Diciamo fatto molto Perché abbiamo visto L'intero snapshot E qua Avevo lasciato attivato Però potete vedere che Gli zombie stanno spanando E stanno anche morendo Quello che voglio andare a fare ora È continuare a lavorare A questa nostra cosa E la porteremo avanti Nei prossimi episodi Perché per ora Ci possiamo fermare qua E quello che voglio andare a fare Per completare l'episodio È parlarvi Del nostro nuovo progetto Che sarà Un piccolo Diciamo Workshop Un piccolo punto Di alchemia E di creazione di pozioni Ok allora Per il nostro piccolo progetto Di alchemia Slash creazione di pozioni Che ci è stato dato In qualche episodio fa Nel commento del giorno Allora Un sistema Un sistema un pelino Più complicato Da vedere Però in realtà Non è così complicato Che ci permette Di creare le pozioni Che vediamo già lì E sono separate Da un blocco Perché sennò Avrebbero problemi I nostri Dropper Che sono quelli che Appunto Dispensano gli item Uno con l'altro Quindi per quello Hanno un blocco In mezzo a loro E per esempio Se io voglio queste qua Che sono le pozioni Della velocità Magari metteremo anche Il nome qui sotto E queste sono quelle Di 8 minuti Posso premere questo bottone E qua verrà mandata Come prima cosa Una netherworld Poi se guardiamo Nell'hopper lì sopra C'è un pezzo di sugar E una redstone Perché? Perché allora Abbiamo il bottone Che è qua Se noi facciamo Una cross session Di questo nostro Piccolo sistema Poi abbiamo Repeater Netherworld O il dropper Della netherworld Poi abbiamo Repeater Dropper del sugar Repeater E dropper della redstone E questo va Per ognuno Dei nostri Delle nostre pozioni Quindi per il secondo Che sono quelle Della Dergen della vita E le ho volute fare Con la glowstone Cioè sono Il livello 2 Abbiamo Netherworld Gastiar Glowstone E per le terze Che sono quelle della forza Abbiamo Netherworld Blitzpowder E gunpowder Quindi è praticamente La stessa cosa E è un sistema Molto molto semplice Da fare Perché potete vedere Che è praticamente Ripetitivo È un po' costoso In termini di ferro Perché utilizza Un sacco di hopper Per ogni linea Ne utilizza Un 2 3 Dovrebbe utilizzarne 6 per ogni linea Poi ce ne sono Poi ce ne sono Degli extra Per avere L'input Delle bottiglie Poi avere L'input Dentro Il nostro Coso Per avere Diciamo Tutto Messo Piuttosto Bene Ma potete vedere Che nel frattempo Mi ha craftato Le pozioni Della velocità Che sono Proprio Quelle che volevo Che sono Di 8 minuti Se io dico Che voglio Quelle Lanciabili Della forza Ora lui Mi andrà A fare Quelle lanciabili Della forza E appunto Quali sono I pro Con questo Nostro sistema Pro è molto semplice Da utilizzare Basta premere Un bottone Un altro pro È un po' È abbastanza compatto Finché non dobbiamo Fare 30.000 Pozioni Un altro pro Invece Che possiamo fare Qualsiasi pozione Anche la stessa Quindi se io voglio Due di velocità Però ne voglio Una lanciabile E una non Posso fare due setup Per farlo Terzo pro È che possiamo Comunque creare Le pozioni Senza dover Utilizzare L'upgrade Quindi questa ultima linea È diciamo Totalmente opzionale Quindi potrebbe anche Non esserci Quindi questa qua Da qui in poi Possiamo anche non farlo E se possiamo Se vogliamo Possiamo fare gli upgrade A parte Quindi è giusto Un'altra cosa Molto molto utile E l'ultimo Pro che abbiamo È che Non richiede così tanta redstone Richiede veramente Pochissima redstone Giusto i repeater E sono tre O anzi diciamo Due più un Opzionale Repeater per ogni cosa Quindi sono massimo Nove pezzi di redstone Più uno per ognuno Di questi Quindi massimo 12 pezzi di redstone Per pozione Quindi non è Veramente moltissimo Perché appunto Sono tipo Due minate di redstone Sì una cosa del genere E potete vedere Che mi ha creato Le pozioni della vita Lanciabili Come avevo chiesto Quindi potete vedere Funziona senza problemi E quali sono i contro? Il contro Chiede un bel po' Di ferro E infine Però Il problema Diciamo più Brutto È che Appunto È lo spazio Perché Sì lo potremmo fare Potremmo farlo magari In un sistema O in una casa Molto grande Però appunto Il problema Maggiore è lo spazio Ma non ce ne sono Veramente altri Sì ok Utilizza il ferro Ma abbiamo una farm Per esso Ma appunto Quindi non è un problema Così grosso Comunque Allora Questo è il nostro setup Lo andiamo a creare Il prossimo episodio Perché mi dispiace dirlo Ma per questo episodio È tutto Perché siamo già Oltre ai 20 minuti Lo snapshot Ci ha richiesto Un bel po' di tempo E nulla Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi voglio chiedere Cosa ne pensate Su questo nostro piccolo setup Se dovremmo andarlo a fare Oppure no E non state a dirmi Che ho copiato a qualcuno Perché questo è un setup Che ho fatto io Non ho cercato online Se c'era Qualcuno che l'ha già fatto Se c'è qualcuno Che l'ha già fatto Ditemelo pure Perché li darò credito Quando E se appunto L'ha fatto lui Comunque Mi dispiace dirlo Ma per questo episodio È tutto Io spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace, commentare, iscrivervi E fare tutte le cose Che volete fare Per aiutarmi Con l'episodio di oggi E con il canale Quindi se volete Mandate pure il video Agli amici Al cugino Alla nonna Allo zio Al cavallo Al gatto Non lo so A chiunque voi vogliate E nulla Con questo vi saluto Bella raga Qui Danefra